Mi occupo di attività formativa dedicata agli operatori del settore sicurezza e del mondo indivisa in genere. Durante i workshop che tengo, affronto argomenti legati all'approccio mentale dell'operatore di poesia fin alle tecniche, tattiche e procedure da sviluppare in contesto operativo. Mi sento di dare a tutti gli appassionati, sia in ambito professionale che sportivo, è quello di sviluppare attività addestrativa con un'inoculazione di stress che ti porti ad operare in addestramento più vicino possibile al limite della propria supportazione.